Ben ragazzi bentornati in questo nuovo video e oggi stiamo andando a Torino per fare una collaborazione la mia prima collaborazione con uno youtuber famoso, un personal trainer e dopo vi farò vedere chi è abbiamo un grande progetto che speriamo che andrà in porto e sarà un allenamento diverso dagli altri mirato proprio per ragazzini, teenager, adolescenti tipo dai 10 ai 15 anni e vi faremo vedere come fare bene gli addominali, i piegamenti sulle braccia, sulle gambe e comunque altre cose e poi questo format qua non si è mai visto su youtube Italia il che è un'ottima cosa perché i teenager e comunque i ragazzini potranno allenarsi guardando i nostri video. Ok ragazzi tra poco arriviamo a Torino e vi farò vedere la grande persona, il grande youtuber il grande personal trainer che è e quando arriveremo appunto vi farò vedere chi è. A dopo! Oggi siamo qua a Torino per fare la mia prima vera collaborazione con una grande persona, un grande personal trainer che ora vi presenterò. Faremo un allenamento apposta per i teenager, per esempio dai 10 ai 15-16 anni che al posto di andare in palestra a fari pesi vi insegneremo a fare gli addominali, i piegamenti sulle braccia e gambe in modo perfetto. E ora andiamo a scoprire chi sarà questo famoso youtuber. Ok ragazzi ci siamo Ciao Alberto. Ciao. 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 Come andiamo? Tutto bene. Mi piace e riconosciuti. Ciao Luca. Vieni vieni ben evento. Ciao. 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 Così già in diretta eh. Già in diretta. Già in diretta. Vieni vieni entra pure così. Faccio vedere la location. In Qui abbiamo tutti eh. Non mi sembra tutto. Vieni vieni vieni. Tiate dare la parte. Sì. BELLA. Bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ora ci metteremo a filmare il video con Umberto che ringrazio già in anticipo per la creazione di questi video per i teenager e a breve usciranno degli episodi nel mio e nel suo canale che trovate qua sotto in descrizione. Noi vi salutiamo, mi raccomando di iscrivervi al canale e agli Instagram che trovate qua sotto in descrizione e ciao belli! Adesso me lo prendo io, vieni va!